ciao a tutti ragazzi e ragazzi e buongiorno allora eccomi qua per presentarvi le offerte del mese di febbraio e questo mese abbiamo pensato di dedicarvi due settimane una interamente al relax e alla nostra settimana dell'amore legata a san valentino per i percorsi sia individuali che di coppia a partire dal 14 febbraio e un'altra settimana legata praticamente alla bellezza e alla rigenerazione del nostro viso con dei trattamenti specifici per trattare l'idratazione le macchie e l'antirughe che partirà dal 21 di febbraio vi aspettiamo sul nostro sito ci saranno tutte le informazioni e i dettagli per qualsiasi cosa potete chiamarci grazie mille francesca e lo staff